Namaste ragazzi In teoria Questo qua Dovrei essere io Finalmente Ha fatto ridere questo uomo Almeno a me mi ha fatto ridere tantissimo Ma tantissimo Non lo so se dopo faccio partire il video Mi farà causa Non lo so Ma io lo faccio lo stesso Namaste E' comico E' bellissimo Che bello Ti sta bene con i capelli Ecco Sta benissimo Molto bene Vabbè porto di scherzi Andiamo Sei simpaticone Sei simpaticone Guarda che è di una simpatia Infinita Ciao No 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 No